Si vigila fin dal mattino in piazza Gae Aulenti, la grande piazza che è il cuore del complesso di grattacieli che hanno ridisegnato la skyline milanese è diventata in pochi anni uno dei luoghi di ritrovo preferiti da giovani e meno giovani. Ma anche qui, in un'area ritenuta finora sicura, si sono verificati episodi inquietanti. L'ultimo è una rapina da parte di una banda di ragazzini ai danni di un undicenne per rubargli le scarpe firmate. Sì, ho sentito ieri sera, sono abbastanza allibita, non ho capito, non lo so. Non me lo sarei mai aspettata in questa zona che da sempre veniamo qua, non erano mai successe cose del genere. Infatti anche quando ho sentito la notizia mi è sembrato un po' strano perché comunque è una zona che visito spessissimo e mi è sembrato strano. Quanto accaduto in piazza Gaea Ulenti è solo uno degli ultimi episodi di violenza esplosi in città, dove cresce la preoccupazione dei cittadini. In alcuni casi è degenerata la cosiddetta movida notturna, come è accaduto alle colonne di San Lorenzo, ma in altri, come nel quartiere di Porta Ticinese, si sono scatenate vere e proprie risse con accoltellamenti e feriti. Stiamo lavorando con prefetto e questore, il vero problema è che sono parecchie le aree della città da vigilare, ma il vero tema è il tema della violenza, per cui sulla violenza non c'è verso, bisogna veramente fare di più meglio, il nostro garantisco l'impegno massimo.